Ciao, sono Daniele, mi occupo di tutto quello che c'è dentro un bar, ho lavorato dietro al bancone, adesso sono capo sala. L'Accademia Barman l'ho scoperta attraverso i social, è stata una bella scoperta. Ho deciso di sviluppare queste skill perché secondo me bisognava fare la differenza sul mondo del lavoro. Bisogna essere un pochettino superiore alla media e quindi ho deciso di intraprendere questo corso per questo. Allora, ho provato a lavorare, a come si lavora davvero, a come si lavora realmente il caffè, tutto quello che c'è nella caffetteria. Pensavo fosse molto più ristretto, invece un mondo grandissimo e bello. Penso che l'Accademia Barman sia veramente un gran punto di svolta nella carriera di un barista e quindi lo consiglio.